Questa sera vengono consegnate le borse di studio a due studenti del Camerum, questo è un importante progetto perché la facoltà vuol dire che si apre, si apre all'Europa e oltre, che cosa significa questo? Il progetto ritengo che possa avere delle valenze molto importanti e devo dire che c'è stata una sinergia di aiuti da parte di una serie di attori sia pubblici sia privati che hanno finanziato, e stasera ci troviamo qui come ha giustamente ricordato proprio per questo scopo, per ricevere l'aiuto da parte di Federpharma Marche che così gentilmente ha deciso di dare una mano perché il progetto credo sia stato ritenuto valido anche da loro. Dicevo, le ricadute e le conseguenze del progetto sono molteplici, quella più importante credo che sia poter consentire a una fascia di popolazione in altre zone del mondo, in questo caso parliamo del Camerum, quindi Africa sub-equatoriale, di avere accesso a professionalità della salute che altrimenti non riescono a raggiungere, semplicemente per un discorso di numero di professionisti che sono presenti sul territorio che hanno queste competenze e queste particolari formazioni. Quindi dicevo il goal ultimo è questo, che si esplica attraverso una serie di percorsi, ovviamente inizialmente la formazione di studenti con questo progetto che ha avuto un percorso un po' particolare, una parte del corso si svolge in loco, infatti i colleghi che sono qui stasera insieme a me sono tutti colleghi che hanno insegnato nella città di Chang, in Cameron, questo per limitare i costi perché 20 studenti che vengono in Italia hanno costi molto più alti di 5 docenti che vanno a insegnare sul posto. Dopo la loro laurea, la loro eventuale specializzazione, condottorato eccetera, c'è un accordo con l'università locale per mettere in piedi una facoltà di farmacia nell'università di Chang. Quindi il vecchio insegnamento della cooperazione che non significa ti porto il pesce così ti sfami, ma ti porto la canna da pesca, impari a pescare, così puoi andare avanti per il futuro da solo. Professore Orazio Cantoni, preside della facoltà di farmacia di Urbino. Professore, come si rinnova e come si innova questo corso di farmacia? È una bella domanda, è un percorso complesso, lungo, non certo si possono vedere cambiamenti significativi nel giro di poco tempo, e tuttavia è un percorso che è stato iniziato già dalla conferenza dei presidi o comunque di coloro che hanno la responsabilità nei diversi atenei delle facoltà di farmacia ed è un percorso che nei limiti che pone la comunità europea, le nostre regole, sta cercando di creare i presupposti perché possa nel tempo crearsi o possano crearsi quelle diverse competente che sono oggi richieste per il quanto riguarda la figura del farmacista. Penso per esempio a quella che viene definita la legge dei servizi, ovvero una legge che prevede possibili evoluzioni della farmacia in tanti ambiti, in particolare facendo riferimento a un ruolo del farmacista che potrà vedere una sua retribuzione sulla base di una prestazione, perché ci possa essere una prestazione retribuita ci vogliono delle competenze, questo è un po' l'obiettivo di questa riforma che nel tempo prenderà luce. Presidente Pasquale D'Avella, Federfarma Marche, un sostegno importante per un'iniziativa internazionale? Credo che fosse doveroso da parte della Federfarma, specialmente in questo momento così difficile sia in termini nazionali sia in termini internazionali, dimostrare la solidarietà dei farmacisti.